possono essere risolti i contratti in estero perché già alcune società vanno chiedendo quando e come ci saranno le gare d'appalto a maggio. Oppure potrei chiedere ma quando noi abbiamo affidato alle cooperative con la manifestazione di interesse e servizi ma siamo sicuri che non rientriamo nella casistica della mafia capitale visto che pare e sembra che quando abbiamo fatto la convenzione con il ministro dell'ambiente avevamo la moglie di Ciavartini Presidente nella cooperativa che faceva attività di verde o che quella che la cooperativa che mi sembra abbia convenzione con noi per riciclaggio dei vestiti usati sia una di quelle coinvolte nell'ultima in filone di inchiesta. Io ho tante domande da fare però io già so che puoi rispondere a quello che vuole perché il problema vero di questa amministrazione è un'emergenza democratica caro sindaco. Lei chianchiera, parla, fa comunque le sue prove diciamo di maggioranza. A noi continuare a chiamarci alle otto del mattino con la convocazione da condominio perché comunque la maggioranza non c'è e soprattutto so bene che tutte queste domande che ho fatto non hanno risposta perché non c'è un'idea di città, non c'è un'attenzione per la città, le attenzioni sono altre e credo che, non spetta a me perché non sono magistrato, anche le 28 condanne a Monza debbono trovare anche una risposta solo di e anche un'attenzione per la città, non c'è un'attenzione per la città.